Buongiorno, mi soffia subito il laso. Buongiorno, benvenuti a questa rassegna stampa del 10 luglio. Vediamo subito quali sono i temi della giornata. Innanzitutto, secondo me la cosa incredibile, il titolo più bello oggi è quello di azzeccato, è quello del giornale di Sallusti, in cui il titolo della giornata è Governo in crisi di sesso. La cosa è molto semplice, ve l'abbiamo raccontato nella zuppa di ieri, un sottosegretario sconosciuto ma molto potente all'interno di questo Governo, tal Spatafora, che ha tutti quegli agganci là con tutta la cricchetta del Movimento 5 Stelle, insomma è anche i suoi uffici stampa. Questo Spatafora che cosa dice ieri? Dice che il problema di Salvini è che è stato sessista con Carola, sessista con Carola. Oggi la perfetta declinazione di questa intervista la leggiamo sulla Repubblica. Ieri l'intervista era su Repubblica che diventa subito grillina quando c'è da attaccare Salvini sul suo sessismo, perché quelli sono perfetti, sono esattamente, non so, la Feltrinelli del politicamente corretto. E allora che cosa dice oggi Repubblica con Stefano Bartezaghi? Cita un po' di frasi di odio da parte contro la Boldrini, contro come si chiama la Cucchi e poi soprattutto mette queste frasi di odio nei confronti di queste donne, frasi sceme, in molti casi cretine della rete e di tutto quanto e le mette in relazione al fatto che il Ministro degli Interni si è permesso di dire che Carola Racchete, la comandante che ha violato un blocco navale, che ha cercato di speronare la Guardia di Finanza e che è stata arrestata, beh il Ministro degli Interni l'ha definita sbruffoncella, l'ha definita criminale, l'ha definita pirata. Allora vi chiedo, ma veramente pensate che questo abbia a che fare con il sessismo? Toc toc, se ce l'avete con Salvini siete così cazzoni di pensare che questo sia il problema, il sessismo? Se là ci fosse stato, amici fate ragionare un attimo il cervello, se al posto di una ragazza ci fosse stato un uomo con i dreadlock e che ne so, il piercing al naso che non piacciono tanto a Salvini, secondo voi Salvini l'avrebbe trattato meglio, porca puttana, se la gente, se spattafora non riesce a capire che il problema semmai è l'atteggiamento di Salvini, che io condivido nei confronti di questi e non è il sessismo, siete dei malati, questi sono malati, hanno il sesso qua in testa, spattafora ce l'hai qua in testa il sesso e questa finta ridicola difesa delle donne non si fa attaccando Salvini che attacca Carlo Arachete perché è del tutto evidente che non l'attacca per il suo sesso, ci arriva anche un bambino molto piccolo, oggi Michele Brambilla sul, come si chiama, sul suo giornale, sul quadriano nazionale, se la prende con Di Maio perché Di Maio ieri non ha tolto dal blog del 5 Stelle, spattafora, blog 5 Stelle, il tuo spattafora, in cui tu dici che i giornalisti sono buoni soltanto a spalare merda, chiaro spattafora? Allora, lui sarà un sessista, se prendo perfettamente le cose come stanno, se lui è un sessista tu che cosa sei? Tu cosa sei? Che non volete togliere dal blog 5 Stelle di Roma? Ve la leggo bene com'è la frase che ha detto questo genio che l'ha scritta, il lavoro dei giornalisti serve a rimuovere la merda dei cani, bravo spattafora, e qui che fai? Un gridolino di, come possiamo dire, di costernazione la vogliamo fare su questa questione che dice il blog 5 Stelle o soltanto se riguarda le donne, se riguarda i giornalisti, se riguarda i gay, se riguarda i maschi, se riguarda i bambini? No, è tutto categorizzato secondo sti matti, vabbè non mi fate parlare, la storia più bella della giornata riguarda uno di noi, un giornalista, perché è divertente, la tira fuori infatto, Fubini è il giornalista rigorista per eccezione, quello che dice che noi siamo delle pippe, il montiano, quello che, insomma, poi a me non me ne frega niente a quale club si iscriva, ma la cosa stupenda è che è molto rigorista con l'Italia, è molto, capito, con la bacchetta, non vi siete comportati bene, non avete pagato i vostri debiti, avete il deficit eccessivo, dovete fare la patrimoniale e adesso arriverà la procedura di infrazione, non sono mai arrivate, l'aveva denunciata a novembre e non è arrivata, era quello che dice, io non parlo dell'aumento dei bambini morti in Grecia perché figurati avrei aiutato i populisti, il problema straordinario di questo Fubini, che scrive ad esempio degli articoli di una cristallina durezza contro l'incapacità italiana di pagare i suoi debiti, sono 15 anni che non paga i suoi debiti con l'ordine dei giornalisti, io la trovo stupenda, ieri è andato all'ordine dei giornalisti e gli ha dato 2500 euro per pagare 14 anni di arretrati, io che dell'ordine dei giornalisti purtroppo pago la quota di 100 euro all'anno e mi rode da morire perché per quanto mi riguarda serve a zero, noi lo potremo abolire quest'ordine dei giornalisti, ma non faccio il rigorista, a me mi troverete mille volte, anche nei miei pezzi, mi dimentico la multa, qualche volta forse non ho pagato l'ordine dei giornalisti, non scaglio la pietra contro chi non paga l'ordine dei giornalisti o addirittura chi ne fa una battaglia ideologica, mi diverte da morire il rigorista pizzicato oggi dal fatto che per vent'anni non l'ha pagata. Altra questione fondamentale oggi è quella del fisco, perché pare che si è arrivata e si stiano trattando per fare un po' di riduzioni fiscali, un po' di flat tax tra governo e Movimento 5 Stelle, insomma hanno trovato un modo per convivere, ma la cosa più divertente è che vogliono fare un'altra rottamazione, un'altra pace fiscale. Ragazzi queste cose si fanno per portare i soldi a casa per poter ridurre le imposte, per me la cosa non è di per sé sbagliata, se riduci le imposte e fai un po' di condoni io non mi metto a piangere, il problema è che mi metto a piangere per come è il contesto delle cormie italiane, oggi un magistrato, il solito magistrato, sempre a Taranto, ha preteso di chiudere, vuole che si chiuda il secondo alto forno dell'Ilva, già uno l'hanno spento e per riaccendere ci vogliono 100 milioni perché bisogna revamparlo, se chiudiamo anche secondo quest'alto forno è chiusa l'Ilva, l'Ilva vive di alto forno, gli alto forni non si spengono con un interruttore della luce, per riaccendere un forno, non elettrico, scusatemi, un alto forno ci vogliono milioni di euro, ci vogliono mesi, ci vogliono anni per poter riportare alla produzione precedente che peraltro oggi già diminuita moltissimo rispetto ai tempi Riva, sono pazzi, se noi affidiamo questa azienda ai magistrati che a un certo punto sequestrarono i prodotti finiti sul porto di Taranto per miliardi di euro perché? Perché erano considerati quei prodotti finiti corpo del reato, quindi l'Ilva che cosa faceva con i commissari? Aveva il corpo del reato sui piazzali e non poteva venderlo e quindi praticamente è fallita, si è bruciata 4 miliardi di patrimonio netto in due anni, questa è l'Italia gestita dai magistrati e invece l'Italia nel futuro sarà gestita dallo Stato che dovrà avere almeno il 50% tra ferrovie dello Stato e tesoro, nel frattempo corteggiano Atlantia, oggi è l'apertura del messaggero, io mi chiedo e vi chiedo, ma se Atlantia, questo governo ha detto che il 14 agosto, cioè in contemporanea con la caduta del Ponte Moranti gestito da Atlantia dell'anno scorso in cui sono morte 43 persone, bene, se volete togliere la concessione autostradale, cioè non dargli un cazzotto ma dargli una bazzucata contro il cervello, dall'altra la volete tenere dentro all'Italia, se gli togliete una concessione perché pensate che sia indegna e che quello non sia stato un tragico errore, una tragica fatalità, magari per alcune colpe anche loro, ma sia ontologicamente la merda di Atlantia che li affidate all'Italia, io non lo so, è una cosa che fa a cazzotti con la logica, Fontana, ministro della famiglia, secondo i giornali oggi è più probabile commissario europeo in quota come si chiama in quota Lega, Macron si inventa una tassa incredibile tra 18 mi sembra 100 euro sui voli che partono dalla Francia su Air France, questo vorrebbe dire ovviamente danneggiare i consumatori, la tassa più gretina del mondo e infine mi dovete spiegare, e faccio lo spiega bene oggi sul Libero, per quale diavolo di motivo dopo un anno e mezzo venga arrestato di nuovo Bellomo, anzi di nuovo per la prima volta Bellomo, perché lui aveva fatto dei contratti oggi sul Messaggero, una ragazza pegnucola, ho fatto un contratto di schiavismo, peggio del Bunga Bunga, queste ragazze non sono delle sprovvedute che vengono da Alburundi, sono delle ragazze che provano a fare il concorso di magistrate e queste signore che vogliono fare il concorso di magistrate si sottopongono a un contratto di schiavismo per le quale è previsto un dress code durissimo da parte di Bellomo, io voglio lasciar perdere un attimo per Bellomo, ma voi vorreste questi magistrati, voi vorreste che una diventasse magistrato dopo aver firmato, autofirmato un contratto di schiavismo che, aperta la parentesi, chiusa la parentesi, mi sembra che in Italia ma anche uno non molto esperto di diritto come me sa che uno non può firmare un contratto di schiavismo come loro stessi l'hanno definiti, ma siamo impazziti, una donna che accetta, qui non stiamo parlando di violenza sessuale, qua stiamo parlando di donne che si sottopongono a contratti considerati come quelle che si comprano le pomatine da Vanna Marchi, né più né meno, però con un piccolo problema che queste sono candidate a fare le magistrate e poi mi chiedo con facci, ma qual è la novità rispetto a un anno e mezzo fa per il quale oggi arresti Bellomo su cose che non c'è nessuna novità rispetto all'inchiesta di un anno e mezzo fa? Io questa roba non la capisco, i magistrati stanno rovinando l'Italia? Non lo so, ci sono anche degli ottimi magistrati in gira, una parte dei magistrati, devo dire che la verità ragiona come mia... vabbè, lasciamo perdere, vi do un grande abbraccio a tutti, io vi do appuntamento come sempre sul sito nicolaporro.it, tante notizie della giornata e sempre in onda il lunedì con Quarta Repubblica, anzi il prossimo lunedì è l'ultima puntata, ciao!